Dopo numerose segnalazioni siamo venuti qui presso i giardinetti di Cavalleggeri d'Aosta a constatarne il vero e proprio degrado. Qual è la situazione? C'è poca cura, non c'è assolutamente manutenzione e tanta sporcizia davvero? Ma veramente è una situazione un po' generalizzata quella che colpisce Cavalleggeri d'Aosta. Può vedere benissimo questi ma anche quelle che sono le erbacce che crescono sotto i muretti dei vari palazzi o nell'ambito delle pochissime aree verdi che ci sono. Quello che preme verificare, quello che preme vedere è fatto questo proprio degrado nonostante noi abbiamo qui una sede della nettezza urbana che è distaccata e che è preposta proprio a questi lavori. È un disastro, comunque dappertutto c'è sporchizia, imbondizia, cose indescrivibili, insetti, animali, topi eccetera. Le fogne non si puliscono mai. Più di questo non posso dire. Io personalmente non ho bambina e non ho questa abitudine di venire. L'unica cosa che dà fastidio è la sporcizia a te, è questa erba che cresce. Quest'erba che dovesse avere la manutenzione di farle perlomeno una volta a mese. E invece sono mesi e mesi? Parliamo di anni, mesi, anni. Gli alberi, gli alberi quando sono cresciuti a un certo punto hanno bisogno di una manutenzione. C'è la scuola che è in fondo a Cavalleggeri dove davvero i bambini devono addirittura attraversare alcuni giorni perché non possono passare sul marciapiede. E poi in generale tutta la zona è degradata, ma iniziando da Piazzale Tecchio ad arrivare a Via Nuova Bagnoli e qua per Via Coroglio. Ci sono rifiuti, ci sono i marciapiedi impraticabili, a Via Diocleziano ci dobbiamo riparare dal sole grazie all'ombra dei cartelloni pubblicitari e tutto che non va.